L'acrimogeni sparati ad altezza uomo, idranti, sassi, dappertutto, infine l'incendio e le cariche. La valsusa brucia e mentre la questura e Notav si accusano a vicenda si contano i feriti. Dopo un lungo stallo alle telecamere appaiono insieme i fumi dei lacrimogeni e i volti mascherati. La polizia parla di assalto di incappucciati dai boschi, in Notav di maschere indossate dopo i lacrimogeni. Questo è grosso, vieni via, vieni via, non ce la fai più. I lacrimogeni bruciano in fretta le sterpaglie autunnali. Fai una specie di cerchio attorno, togli le foglie dietro, occhio alle lingue di fuoco. Sassi lanciati e restituiti dappertutto, a poco serve al nostro operatore dichiararsi stampa, rai. Il sasso che lo ferisce alla mano parte dalle forze dell'ordine.